Ciao a tutte ragazze, eccoci qua con il video All Avon in collaborazione con Avon Perry a cui mandiamo un grosso bacio, ciao! Eccoci qua, oggi abbiamo anche il gigetto Nuovo intruso nel video di oggi, va bene Stai qui Perché la testata, scusa? Fa male la pancia Lo sai che se non lo lasci, ecco, vediamola Ascolta, dai, ciao Allora, c'era Campania 15, 16, 17, programma fedeltà, giusto? Voglio vedere se quella è che ci sta in te, quella è rosa Ci siamo mandati a prendere le due mantelle, fa vedere Guardate com'è Sì, c'è il mobile Guardate com'è bella Col cappucce Non si vede tutto qua, cioè Si vede tutta? Sì, adesso sì, un po' si vede Ecco qua Perfetto E questa è la mantella Io voglio vedere se è cucita anche quella è rosa Eh, guarderai dopo Uffa Vabbè, abbiamo anche quest'altra Che stress Mi dono Non ci sono così Va bene Se quella è di rosa è buona Insomma, ma non te Non riesco ad aprirla Andiamo, mi stia Ascolta, e poi cosa c'entra? Cucita da una parte, cucita dall'altra Tiene sempre mo' caldo, giusto? No Ecco, allora, ma sì, ma niente Sì Sì, l'abbiamo Ho sbagliato il scatolone, scusate Perché stavolta C'è quasi tutta roba per la signorina Mia, sì Tu Una volta tanto Tutta roba della signorina, qua Allora, perfetto Cominciamo Aspettatissimo Aspettate, chi si muove? Loro non si muovono A meno che Stiamo perdendo troppo tempo Anna, eccomi E scappi Già la mattina che non faccio in tempo Ad alzarmi dal letto Ad andare in bagno Che sono già in ritardo Si può dire Allora, siccome lei Piace lo shampoo Quello Jojoba Ecco Miele e olio di Jojoba Dovrebbe essere, se non sbaglio Sì C'era l'offerta, due A 7,90 Te l'ho mandato a prendere Poi, nella stessa linea Ho mandato a prendere Due maschere Per i capelli Che erano Uscite in campagna 16 Ma mi ero dimenticata Sono A risciacquo Vanno tenute su Da 1 3 minuti al massimo E poi vanno Risciacquate Puoi far vedere Com'è la maschera? Se non ti dispiace Se non è Wow Ma che profumo Ragazzi Ma non è che buon profumo Che è quella Sì Ehm Poi Per completare Questa sera la provo Perché mi dobbiamo lavare i capelli Bravo Cioè Il vezzo completo Per completare Il balsamo Infine la maschera Che anche questo aveva un buon prezzo Poi Il tuo smalto nero Che è quello che avevo Prima è praticamente Sicuramente Sì Rinsecchito Eccoci qui Uno smalto nero Ok Poi abbiamo Ah Il tuo pettinino Per le sopracciglia Così quando con la pinzettina Fai le sopracciglia Le puoi pettinare Aspetta Aspetta Chi si muove? Va bene Rimango qui così Perfetto Eccoci qua Va bene Così quando fai le sopracciglia Sei a posto Sì La testura subita Ma certo Quando te le fai Ti diverti C'ho due o tre stranti Ciglia Come ciglia Tu vedi alla sera Che mi vedi Che mi pettino le mie Bene Poi Questi qua sono Per avere i prodotti Per la campagna fedeltà C'era il set Una glimmer stick E L'Avon Care Per 3 in 1 4 in 95 E mi andiamo Mandati a prendere Due E certo Sennò le mantelle Come Due La glimmer stick E La twilight Sparkle Se non sbaglio Sì Tutte due Sì Tutte due Le mandate a prendere uguali Sennò il twilight Sparkle Ok Poi Mi abbiamo mandato A prendere Il famoso Pennello Kabuki Ero curiosa Di vedere Com'era Ma Adesso Vediamo Tutti parlano Che poi Cioè Lo delavo Insomma Ho sentito Parecchie recensioni Negativi Ho detto Vabbè Adesso lo provo Tanto Ammazzate Ammazzate Mio Cosa tu Adesso è mio No Aspetta Allora Ci giochiamo Anche Eh Non so Adesso vediamo Che cosa Un po' ispido Sì Un po' ispidino Più che ispido È rigido Qua Tutto rigido Esatto Cos'è per quello Che non Adesso vediamo A 3,95 euro Oh ma che bello scovolino Bello È rigido È rigido Sì A parte quella Ma Ah Quando si mette Il mascara Per non fare Entrare Troppa Aria Dentro Nel 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 Cosa Nel contenitore Nel contenitore Che altrimenti Si secca subito Per prendere Il prodotto Invece che si fa Su e giù Su e giù Si ruota Lo ruoti Così entra Come facevo io Quando c'erano I mascara Quasi finiti Ero di che Lo ruotavi Invece di fare Sempre su e giù Perché entra Aria E si secca Prima il mascara Visto che news Altro No Questo non ti Vuoi far vedere No Dopo 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 Vado a cercare Anche il catalogo Non so Anche il catalogo Eh Intanto Quanti Doveva essere Per primo No Per il secondo Era andato giù Hai preso La mantella Il nuovo profumo Della collezione Kate World Questo qui Cos'è il quarto Il quinto 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 Ce n'è uno rosa Uno viola Un arancione E un azzurro E questo è quello oro E quello è quello oro Sì Quella spazzola lì Non ricordo più Che in capa Ma vieni qua Sì arrivo Sto guardando Sto prendendo Questo Forse Nella uno Cosa sa Fammi leggere Le notte Ma sì Vado avanti Indietro Cosa Sento un po' Troppo Sento un tuffo al cuore Con questa fusione Irresistibile Note di prugna E zucchero Un delicato Tocco di ricca fresia E sognanti Accordi vanigliati Wow Che ispira Momenti da fiaba So che Mettimelo così Proprio che Ascoltala Ma l'hai detto tu Sì Tu hai detto Fammi sentire Ma non Cioè Non ho bisogno Che mi Spiccichi il naso Domani me lo metto Sì Domani Pomerizzate Mamma Lo devo pure no Provare A vedere se L'olio Sento non le ha Sì Le altre Poi te lo porti Dietro Cassamai Infatti L'unico rosa Stamattina Se l'avevo addosso Che avevo pensato Un po' Di mettermelo Più tardi Perché non sono riuscita A mettermi A con casa Niente Non lo so Poi Due Due cose Per me Che poi Usi anche tu Una Che due palle Proprio Questa qui È la mia Io sono fissata Una Salamia No Questo è burro di caretetta Una salamia Qualcora vi farò vedere Il mio trattamento Delle manine Che uso Questo qui È Della Plane Spa Che è la nostra Linea preferita È la crema Mani piedi Al burro Di Caretè È questo qua Africano È da E 75 ML Guarda Questo qua Questo qua Oddio È la crema Tanto bene È questo Senti Senti Burro di caretetta Ah Grazie Che ci hai Pucciato È questa È buona È buona Sì la mamma Aspetta bene Eccoci qua E per finire Mi sono mandata A prendere Lavon In stick For Betten Betten Vogliono usare Anche quello Allora Vediamo È un Ehm Ode Parfum Sono 50 ml Di Giulle Zampe Di Giulle Zampe Allora Fusione Di Frizzanti Noti Di Agrumi Frutti Rossi Petali Colorati Io Vado a usare Il mio Sì ma Te lo sei Aperto Tu Il tuo Ecco Il mio Me lo apro Io Seri Seri E vedo C'è Il packaging È Bellissimo 50 ml Più bello Il mio Sì Più bello Il tuo Guarda 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 Qui Eh ho visto C'è la decorazione Io ho il tappino Con i luccichini Che ti vuoi un profumo Senti Si sente Faccio come te Che meno I I No che sai Mi continuano a snasare Il mio Quindi quello A te proprio Te Tum Sì È buono È buono Sì Ah ecco È un profumo Eh sì Si sente Andiamo avanti Perché sennò Qua non finiamo più E beh I prodotti nostri Non ce ne sono più Eh E E E Scusa E E siccome Delle anteprime Abbiamo solo Due Due prodotti Ah due Perché è il terzo Erano i miei Nelli Però Vanno bene Abbiamo No piano Delle anteprime Abbiamo solo due prodotti Terzo no Eh niente Allora uniamo No non uniamo niente Facciamo un video piccolino Tipo Anche cinque minuti Sì cinque minuti Non Non è Non unisco Il video Aul Sì adesso In collaborazione Con le anteprime Niente Finito qua Speriamo di avervi Tenuto un po' di compagnia Che abbiamo fatto Un po' di casino Anche va bene No No come al solito Spero che si siano divertiti Anche Vi lasciamo un grosso bacio Ciao 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 ciao